Stesso mare, stesso divieto. La nuova stagione balneare sul litorale di Pescara inizia con un nuovo divieto di balneazione nel tratto compreso tra la Madonnina e i via Ragazzi del 99. L'ordinanza è stata emessa dal sindaco Alessandrini. I dati ad oggi disponibili, ha detto, dimostrano che gli interventi messi in campo nella lotta all'inquinamento del fiume stanno dando i primi effetti. In questo campo non esiste la bacchetta magica, ha aggiunto, ma i risultati si ottengono lavorando quotidianamente. Nel crono programma dei lavori è inserita l'entrata in funzione del progetto DK15 in corso di realizzazione da parte dell'ACA che punta a captare gli scarichi per convogliarli verso il depuratore. Purtroppo in questi giorni il Comune è venuto a conoscenza che il progetto manca di un fondamentale passaggio, il parere vincolante della Soprintendenza delle Belle Arti e Paisaggio d'Abruzzo sulle lavorazioni in corso nell'area golenare. Un vulnus dell'iter procedurale, ha detto l'assessore al demanio Enzo Del Vecchio, che sarà sanato a breve con la collaborazione della Soprintendenza in modo da terminare i lavori nel più breve tempo possibile. Guardiamo, nonostante tutto, con ottimismo al proseguo della stagione. Lo facciamo non in base a previsioni da sciamano, ma in base al lavoro che abbiamo svolto durante l'inverno. Un lavoro in una duplice direzione, di censimento degli scarichi abusivi, civili e industriali, e di lotta agli stessi con i lavori del DK15 che li raccolgono, oltre a varie azioni specifiche volte a tappare gli scarichi medesimi. L'osservazione dei dati che abbiamo svolto durante l'intera stagione invernale mostra comunque una tendenza positiva. Una tendenza positiva che è frutto sicuramente del lavoro svolto, è frutto anche della stagionalità, perché le condizioni storicamente migliorano con il proseguo della stagione, con l'avvicinarsi della stagione estiva. Attendiamo dunque il prossimo campionamento che si terrà a metà maggio, ne occorreranno due consecutivi positivi e appunto guardiamo con un cauto ottimismo a questo lasso di tempo che ci separa dall'inizio della stagione estiva.